Alla scadenza dei termini, due candidature alla carica di segretario provinciale del PD, quelle di Nello Pizza e Gerardo Capodilupo, niente terza via. Fino a venerdì il partito raccoglierà online le iscrizioni 2021, poi stop alle adesioni e votazioni nei circoli per eleggere anche i 60 componenti dell'Assemblea Provinciale. I candidati in totale sono 240. Per Nello Pizza, rappresentante del fronte regionale, tre liste collegate, ispirate dal consigliere regionale Maurizio Petracca, dall'ex presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio e una lista che tiene insieme le componenti, con a capo l'ex senatore Enzo De Luca e l'ex presidente dell'Assemblea Provinciale Roberta Santaniello. Per Capodilupo, una lista collegata composta dal cosiddetto fronte critico, festa, petito de caro. Non sono mancati attimi di suspense all'atto del deposito dei documenti, su un fronte e sull'altro. Sono state registrate defezioni, la mancanza dell'alternanza di genere o la carenza di carte con richiesta di integrazioni. Non dovrebbero tuttavia rappresentare ostacoli nella sostanza. La documentazione resta al vaglio della Commissione Provinciale per il Congresso, che ha pubblicato online le due mozioni. L'organismo preseduto da donato riservato la prossima settimana dovrà anche certificare il numero e la regolarità dei tesseramenti. Non è difficile immaginare un boom di adesioni rispetto ai 2000 tesserati della prima ora, cui seguiranno valutazioni da parte degli organismi preposti. La vera novità della tornata è rappresentata dalla cancellazione dei circoli di Avellino. Nascerà infatti un coordinamento unico con l'elezione del segretario cittadino, figura chiave che nel capoluogo manca da circa dieci anni. L'ultimo incarico fu svolto dal professor Francesco Barra. Sui rapporti di forza nel partito bisognerà attendere la fine del tesseramento. Capo di Lupo e Pizza hanno già entrambi dichiarato tuttavia di voler elevare il dibattito e concentrarsi sui temi, o almeno ci proveranno.